benvenuti a una nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleocristiano al gotico internazionale oggi andremo a concludere il nostro viaggio all'interno della pittura gotica del 300 andando a parlare di due grandi artisti che hanno contribuito oltre al più famoso giotto a incarnare quei linguaggi stili e gusti tipici di questo periodo il primo è simone martini artista senese attivo tra la fine del 1200 e la prima metà del 1300 di cui però sappiamo molto poco a livello biografico e questo si rispecchia anche nel fatto che ci sono dei dubbi su alcune attribuzioni di opere intorno alle quali gli studiosi ancora non hanno trovato unanimità nonostante ciò basta guardare quelle opere che sono invece state attribuite senza ombra di dubbio a simone martini per renderci conto che i suoi lavori sono esemplificativi della pittura gotica di quattordicesimo secolo tornando alla scarna biografia sappiamo che martini fu attivo non solo a siena ovviamente ma in tutta la penisola collaborò con altri artisti tra cui lo stesso giotto alla decorazione della basilica di san francesco d'assisi concentrandosi soprattutto nella chiesa inferiore a seguito della quale andò a collaborare prima col re di napoli e poi anche con papa benedetto xiii che lo invitò a trasferirsi ad avignone sede in quegli anni del seggio pontificio qui martini resterà fino alla morte per quanto riguarda poi la formazione del pittore senese secondo la tradizione anche se non abbiamo in realtà la certezza assoluta egli sarebbe stato allievo del grande duccio di boninsegna oltre al quale a influire sulla sua personalità artistica troviamo sicuramente anche giotto i cui lavori come abbiamo detto prima martini conobbe durante la sua permanenza al cantiere di assisi una delle opere più note di simone martini nonché una delle prime pitture di sua sicura attribuzione possibile per il fatto che il nome dell'artista è riportato in un carteggio all'interno dell'opera è la maestà della sala del gran consiglio oggi chiamata sala del mappamondo nel palazzo pubblico di siena commissionata direttamente dal governo della città ci troviamo quindi a differenza di tutte le altre opere che abbiamo visto finora di fronte a una committenza civile come abbiamo già visto parlando della madonna di ogni santi di giotto anche in questo caso si tratta di una raffigurazione della madonna in trono con bambino circondata da un seguito di santi profeti ed evangelisti davanti alla scena poi troviamo due angeli inginocchiati nell'intento di offrirle alla vergine il cui sguardo tradisce una malinconia di fondo degli omaggi floreali si tratta di un'opera enorme di oltre sette metri e mezzo di altezza per quasi dieci metri di larghezza la cui realizzazione impegnò martini dal 1312 al 1325 il grande affresco è inserito in una cornice a decorazione floreale entro la quale sono inseriti 20 medaglioni circolari di cui quello centrale in alto rappresenta la figura del gesù redentore i medaglioni sono intervallati da altrettanti piccoli tondi rappresentanti simboli e stemmi della città di siena questo affresco si basa su una rigida organizzazione prospettica incentrata sull'elegante trono dorato a trifore gotiche e il maestoso baldacchino di stoffa rossa riccamente decorato e sostenuto da otto sottili aste dorate che sovrasta l'intera scena e sotto cui si riuniscono tutti gli astanti le figure sono realizzate con un tratto morbido che privilegia le linee curve il tutto arricchito da alcuni inserti dorati in vetro pergamena e cristallo di rocca che oltre a impreziosire l'opera permettono di creare effetti materici di grande valore il colore è steso a campiture ampie e omogenee con scarsi giochi di chiaroscuro lo sfondo in modo simile ai lavori di giotto è invece di un blu intenso che nella sua uniformità fa risaltare per opposizione il gruppo compatto e colorato delle figure nella stessa sala del mappamondo poi sulla parete opposta rispetto alla maestà simone martini realizza un'altra opera famosissima guidoriccio da fogliano all'assedio di monte massi si tratta di un gigantesco affresco di oltre tre metri di altezza per quasi dieci di larghezza datato 1330 e che rappresenta il comandante mercenario delle truppe senesi guidoricci anche noto come guidoriccio da fogliano assoldato da siena per porre sotto assedio il castello di monte massi roccaforte dei ghibellini che si opponevano all'espansione della città guelfa di siena il condottiero è rappresentato a cavallo di profilo e con un ricchissimo abito che riprende la fantasia del mantello del cavallo e nasconde al di sotto un'armatura che fa capolino però sul collo e sulle gambe guidoriccio completa poi il suo outfit come si direbbe oggi con un cappello dal bordo bianco e con una spada inserita nella fodera la quale fodera è a sua volta appesa alla cinta dell'uomo le mani del condottiero sono occupate la destra a tenere uno scettro mentre la sinistra regge le briglie del cavallo sullo sfondo del dipinto vediamo poi inserito un paesaggio molto semplice spoglio in cui troviamo sulla sinistra l'obiettivo militare delle truppe senesi a destra invece probabilmente una struttura della stessa siena lo notiamo dalla bandiera bianca e nera realizzata in vista dell'assedio continuando a guardare troviamo anche alcuni accampamenti militari deserti riconoscibili dal fatto che sono formati da un insieme di tende e che probabilmente vanno a rappresentare gli accampamenti dei nemici sconfitti completano poi l'ambiente alcune palizzate in legno realizzate probabilmente dagli assediati a scopo difensivo e che vanno insieme agli accampamenti militari a dare una sorta di contesto narrativo a tutta la scena quest'opera per secoli è stata attribuita senza sé e senza massimo né martini oggi però gli storici dell'arte hanno iniziato a farsi qualche domanda in quanto i lavori di restauro hanno fatto emergere da una parte le tracce di pesanti ridipinture realizzate nei secoli successivi e dall'altra nella parte inferiore della parete su cui l'opera è realizzata hanno trovato i resti in pessimo stato di conservazione di un'opera più antica con due personaggi nei pressi di un castello la qualità del dipinto seppur ne abbiamo di fronte soltanto un frammento e seppur questo frammento in pessimo stato di conservazione è talmente alta talmente elevata da poter sostenere che sia attribuibile a simone martini e questo dato viste anche le differenze stilistiche e temporali rispetto all'affresco più noto più famoso che vediamo oggi nella sua completezza ha fatto sospettare che l'opera che oggi vediamo sia in realtà da attribuire a un altro artista però su questo tema gli storici dell'arte non hanno ancora un'opinione definitiva un'altra opera sicuramente importante per la carriera di simone martini e che tocca un genere abbastanza diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora è il san ludovico di tolosa che incorona roberto d'angio realizzato nel 1317 su commissione dello stesso roberto d'angio re di napoli quest'opera doveva andare a celebrare il fratello del re di napoli ludovico primo genito dell'allora re di sicilia carlo secondo d'angio il quale rifiutò la corona di re di napoli a favore del fratello per potersi dedicare così unicamente alla vita religiosa tornando alla descrizione dell'opera si tratta di una pala ligna cuspidata tronca posta su una predella ossia una sorta di tavoletta rettangolare che fa da base alla tavola e all'interno della quale inserite in cinque archetti a tutto sesto troviamo altrettante scene tratte dalla vita di san ludovico al centro della pala sorge all'interno di una cornice decorata a gigli dorati simbolo della francia la figura di san ludovico seduto in trono con lo sguardo fisso davanti a sé rappresentato nell'atto di consegnare la corona del regno di napoli a un piccolo roberto d'angio posto nell'angolo in bassa destra nello stesso momento due angeli incoronano san ludovico certificando il suo status di santità in una sorta di duplice incoronazione che lega i destini dei due fratelli la consegna della corona del regno da parte del santo al futuro re inoltre va inserita in una logica di legittimazione divina del potere temporale e della dinastia regnante interessante poi andare a notare la cura posta nella rappresentazione delle vesti riccamente decorate bordate d'oro che nel caso del santo contrastano in modo molto netto con il sottostante sobrio abito francescano che rispecchia in modo più aderente al vero la personalità di ludovico che si è sempre dato a una vita spirituale che rifiutava onori cariche e ricchezze colpisce poi la scarsa profondità della scena e la fissità dei personaggi che appaiono quasi congelati nelle loro pose completa l'opera poi il fondo oro che dona tutta la scena una grandissima luminosità oltre a simone martini poi c'è un altro grande artista che ben rappresenta la pittura gotica del 300 in italia stiamo parlando di ambrogio lorenzetti pittore anch'esso senese attivo nella prima metà del 1300 da notare come ambrogio aveva un fratello maggiore pietro lorenzetti anch'esso pittore che però non raggiunse mai il livello qualitativo e la fama del più celebre ambrogio da un punto di vista biografico anche su di lui abbiamo però pochissime notizie sappiamo che nacque alla fine del 1200 mentre informazioni un po più certe le abbiamo rispetto alla data di morte che possiamo individuare nel 1348 durante una delle grandi pestilenze che colpì il nostro continente quando lorenzetti stesso scrisse testamento oltre a siena ambrogio fu attivo anche a firenze e nel corso della sua carriera entrò in contatto con i lavori dei grandi artisti dell'epoca a partire anche lui dal grande maestro giotto ma anche a quelli di simone martini duccio di boninsegna giovanni pisano il lavoro sicuramente più noto di ambrogio lorenzetti è senza ombra di dubbio il grande ciclo del buon governo del cattivo governo realizzato tra il 1338 e il 1339 lungo tre delle quattro pareti della sala dei nove nel palazzo pubblico di siena siamo di nuovo quindi qui in un contesto civile in cui le autorità civili di siena vanno a commissionare a un artista di rappresentare un'opera che vuole andare a elogiare il governo della città tornando all'affresco sulla parete più corta troviamo l'allegoria del buon governo mentre sulle due pareti lunghe troviamo da una parte gli effetti del buon governo in città e in campagna mentre sulla seconda l'allegoria del cattivo governo e gli effetti del cattivo governo in città in campagna da notare come abbiamo certezza di questa attribuzione perché è proprio ambrogio lorenzetti stesso a firmare l'opera partiamo nella nostra analisi da il buon governo prima scena di questo grande affresco corale e rappresentazione dell'orgoglio senese che porta la città a rappresentare se stessa come retta da un governo saggio e giusto la parete è visivamente suddivisa in due parti a sinistra troviamo l'allegoria della giustizia seduta in trono con in mano una bilancia sui cui piatti troviamo due angeli rappresentati nell'atto di amministrare la giustizia stessa sopra questa allegoria troviamo la figura alata della sapienza divina che ispira la giustizia la quale infatti rivolge il suo sguardo verso l'alto sotto di lei a fare quasi da cerniera con il gruppo di destra troviamo rappresentata leggermente più grande rispetto alle altre figure poste tutti intorno l'allegoria della concordia mentre alla sua destra vediamo un gruppo di 24 consiglieri della città nella parte destra del dipinto invece troviamo sempre in trono la maestosa rappresentazione del buon governo raffigurato come un uomo anziano con scettro e scudo vestito con un mantello bianco e nero a riprendere i colori della città di siena e circondato dalle virtù cardinani giustizia che compare quindi una seconda volta temperanza prudenza fortezza magnanimità e pace quest'ultima facilmente riconoscibile perché quasi sdraiata sopra un cumulo di armi e tiene in mano un ramoscello d'ulivo tutte le allegorie comunque sono individuabili grazie agli attributi che tengono in mano sopra il buon governo troviamo invece tre figure alate rappresentazioni allegoriche delle tre virtù teologali fede speranza e carità vanno a concludere poi la composizione nella parte in bassa destra dell'opera due gruppi rappresentanti soldati sia a cavallo che di fanteria e prigionieri anche se per l'epoca questo gruppo doveva avere un significato ben chiaro e preciso oggi noi facciamo però fatica a dire esattamente cosa dovessero rappresentare e questo dobbiamo sempre tenere la mente nel senso che noi facciamo delle ipotesi facciamo delle ricostruzioni ma chiaramente i simboli i rimandi delle opere quando vengono realizzate per quell'epoca erano scontati chiaramente leggibili in certi casi siamo in grado di decifrarli anche oggi in altri non abbiamo modo di andare a capire esattamente che cosa volessero dire tornando a noi per quanto riguarda lo stile di questa di questo affresco possiamo notare a colpo d'occhio da una parte la vivacità dei colori utilizzati che vanno a contrastare con il blu scuro usato per lo sfondo e dall'altra la fissità delle figure rappresentate con forme massicce e vestite da abiti i cui panneggi sono spesso decorativi più che realistici ad arricchire ulteriormente la composizione troviamo poi l'uso sapiente del chiaroscuro che va a vivacizzare i colori distesi a tinte piatte proseguiamo ora sulla seconda parete con gli effetti del buon governo in città e in campagna come si comprende bene dal titolo tutta la scena vuole rappresentare con non poco orgoglio gli effetti positivi del governo illuminato di siena rispetto al buon governo dove la composizione era più rigida in questo affresco il tutto risulta molto più spontaneo e dinamico la scena è divisa orizzontalmente di nuovo in due parti a sinistra troviamo la città di siena mentre a destra troviamo il contado quindi quella parte di campagna che faceva parte di territori della città e che veniva usata per sussistenza della città stessa da notare come forse per la prima volta lo sfondo da elemento decorativo se non addirittura riempitivo diventa un vero e proprio protagonista dell'opera partendo dalla città vediamo un borgo medievale ricco di vita con le botteghe che si aprono ai piani terra delle abitazioni e una marea di personaggi che si muovono tra le vie e i portici a tutto sesso della città ci sono diverse scene tratte dalla vita quotidiana come ad esempio in alto al centro della città troviamo un gruppo di operai che sta concludendo i lavori sul tetto di una casa oppure ancora in basso a sinistra dove vediamo una giovane donna a cavallo riccamente vestita e con una corona in testa che probabilmente sta andando a sposarsi a pochi passi da lei poi troviamo un gruppo numeroso di ragazze vestite con abiti sontuosi che ballano una sorta di girotondo tenendosi per mano e danzando a ritmo di un tamburello tra gli edifici poi vediamo alcune chiese moltissime torri e una miriade di palazzi curati nei dettagli a partire dalle finestre e dalle merlature dei tetti attenzione però qui a pensare che questa cura nei dettagli dia un effetto veritiero all'opera perché i palazzi tendono a essere un po tutti uguali tendono a ripetersi gli uni simili agli altri andando a creare quasi una perdita di ogni forma di verosimiglianza tornando a noi poi gli effetti benefici del buon governo come annunciato nel titolo si espandono anche al di là delle mura del della città nella campagna che circonda siena interessante qui osservare come le mura senesi sono rappresentate in modo del tutto simbolico assomigliando quasi a un sottile foglio di carta quasi del tutto prive di ogni spessore questa scelta non è casuale ma frutto della volontà dell'artista di rappresentare simbolicamente il fatto che il buon governo di siena porta la città a non dover temere di essere attaccata e da qui quindi la scarsa importanza data alle mura tornando alla descrizione le campagne sono punteggiate di campi coltivati boschi e pascoli e pullulano di uomini animali intenti a portare avanti le loro attività si noti ad esempio un gruppo di giovani altolocati a cavallo che esce dalla città per partecipare a una battuta di caccia col falco sopra il contado poi troviamo l'allegoria della sicurezza rappresentata come una donna vestita da un leggero velo bianco e che tiene in mano la rappresentazione di un impiccato simbolo forse un po macabro di una giustizia severa e implacabile verso chi non rispetta le regole l'allegoria della sicurezza poi tiene in mano anche un cartiglio in cui si ricorda che finché essa governerà nessuno dovrà avere paura di passare per la città o il contado di siena come abbiamo già accennato per i palazzi dobbiamo in ultimo notare che pur essendosi lorenzetti ispirato alla realtà senese il linguaggio pittorico la prospettiva un po impacciata la semplificazione del paesaggio naturale fa sì che poi guardando l'opera finita si vada a perdere qualsiasi forma di aderenza al vero e di verosimiglianza a favore invece di una rappresentazione ideale e idealistica concludiamo poi questo viaggio nella pittura gotica del 300 e nell'attività di ambrogio lorenzetti con l'ultima delle tre scene l'allegoria del cattivo governo gli effetti del cattivo governo in città e campagna questo fresco si trova di fronte all'allegoria del buon governo e doveva portare gli spettatori dell'epoca un confronto diretto tra le due a governare l'affresco troviamo la mostruosa personificazione della tirannide rappresentata con corna zanne e occhi strabici sotto di essa troviamo la rappresentazione di una capra demoniaca mentre al di sopra della tirannide troviamo in opposizione alle tre virtù che nell'affresco opposto sovrastano il buon governo la rappresentazione dei tre vizi capitali avarizia rappresentata con un uncino con cui arpionare avidamente le ricchezze superbia rappresentata con una spada e infine troviamo vanagloria che porta con sé uno specchio con cui ammira la sua stessa bellezza sopra tutte e tre le figure troviamo un cartiglio che ci permette di identificarle riportando infatti il nome dei vari vizi seduta al fianco della tirannide troviamo anche qui in opposizione rispetto alle virtù che accompagnavano il buon governo le varie personificazioni del male crudeltà furore rappresentato con la testa di cinghiale il torso duomo il corpo di cavallo e la coda di cane tradimento divisione frode e infine guerra vestita di nero con spada e scudo alle spalle di questi personaggi troviamo poi un muro merlato che li inquadra e ai cui lati si aprono alcuni edifici ai piedi della tirannide si trova la giustizia non più rappresentata in trono bensì legata spogliata della sua corona e delle sue vesti riccamente decorate e rappresentata col volto affranto al suo fianco troviamo un gruppo di cittadini che rappresentano in modo simbolico le vittime del cattivo governo a completare l'opera ci sarebbero altri personaggi altre scene della parte bassa della fresco che però è di difficilissima lettura a causa del pessimo stato di conservazione che l'ha reso quasi del tutto illeggibile